In sostanza si mette a sistema ciò che aveva comunque una sua rilevanza per quello che riguarda la sicurezza privata ma non riferiva alle forze di polizia direttamente. Adesso con questo protocollo tutto questo metterà appunto a sistema molti più operatori di quanti non ce ne siano adesso e questo non può che essere un passo ulteriore verso una sicurezza generalizzata per tutti i cittadini. Mille occhi sulla città contro i criminali. Da oggi infatti anche i vigilantes potranno segnalare con un filo diretto che passerà attraverso nuovi mezzi di comunicazione a questura prefettura e forze dell'ordine ogni situazione critica che si troveranno di fronte a rendere possibile ciò l'accordo che la prefettura ha definito con il comune di Arezzo e le società di vigilanza private che è stato firmato oggi dal prefetto Anna Palombi e dai partner della nuova idea. Loro nel spredamento del loro lavoro, della loro attività possono controllare, monitorare delle situazioni che possono essere delinquenziali o sospette e comunicarle immediatamente alla polizia locale e alle forze di polizia e questo significa creare intanto la collaborazione con il comune sicuramente e le forze di polizia e quindi si ha ancora il campo delle attività per rendere più sicure le persone, viene allargato con questa collaborazione e ovviamente per poter assicurare alla giustizia anche di quelle situazioni delinquenziali che possono succedere. Sotto la lente di ingrandimento restano le zone più calde della città, da Saione ai giardini del Porcinai sino al parco del Pionda. Sappiamo tutti quali sono le zone della città che soffrono in questo momento di una, diciamo, non tanto scarsa sicurezza ma di una cattiva frequenza e quindi già su quelle le forze di polizia, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale sono già al lavoro. Quindi si tratta di tirare le somme tra breve periodo e vedere se c'è da estendere queste zone oppure se è sufficiente il lavoro fatto fino adesso. L'accordo sarà poi esteso anche alla provincia di Arezzo con intese da stipulare con le amministrazioni dei singoli comuni e le associazioni di vigilanza presenti nel territorio.